Grazie a tutti. 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 E come precedentemente quando hanno aperto questa racchetta e c'era uno dell'ambiente che poi questo è stato ammazzato a Milano, non so se il fratello di questo qua ha preso la quota anche di questa racchetta. Sì, perché ha detto io non posso entrare nell'intimità delle persone? Quindi per un proprietario non può entrare, diceva, ha fatto questa osservazione. Scusi, per Alioto e Orofino perché invece può entrare nell'intimità? Io non ci sono entrato. E' uno che si sapeva, lo stesso mentiamo. Orofino parlava che era socio con questo della Costa Azzura, quello della Costa Azzura parlava che aveva la società. Ah, gli posso dire che c'era un matrimonio di una della famiglia di Sanberri, c'è un fratello di qua. Alla Costa Azzura dico, è come c'ho anche la società di che fa la racchetta. C'è voce che si sapeva che fossero i proprietari? Sì. Senta, lei sa personalmente se Orofino avesse dato un consenso esplicito a queste riunioni? No, questo non lo so, non ce lo posso dire, è un po' vado. Certo, giustamente lui vedeva che erano gente della delinquenza. Sì, questo l'ha già detto, grazie. Su questo punto mi pare che... Eh, lo ha detto dottore Marino, se vuole prendiamo il punto esatto. Va bene, senta, lei ha parlato di Cutispoto. Cutispoto è una domanda? Sì. E come sa che spacciava stupefacenti? Come come sa che spacciava stupefacenti? Qual è la sua fonte? Come lo sa? Come lo so? Come lo so giustamente perché ho fatto nel gruppo di Claudio Sanberri. Facendo parte nel gruppo di Claudio Sanberri io lo so che tutti quanti spacciavano. Sì, senta, passando a Fiorito. Quanto pagava lei la droga che acquistava dal Fiorito? Allora quando ce la dava mi sembra che ci dava l'eroina a 60.000 lire e la cocaina a 70.000 lire. Senta, e quanti acquisti fece, se lo ricorda, grosso modo, certo? Quante volte acquistò? Guarda, ci posso dire che siamo andati due volte con un treno, io e Pippo Grazioso, a prenderla. Una volta ci siamo andati con la BMW di Giuseppe Grazioso insieme a suo cognato Piero, che poi, suo cognato Piero, come noi abbiamo preso la droga e l'abbiamo messo nei pannelli della macchina, lui si è andato, è sceso dal Catania con l'aereo, noi siamo andati, se ne siamo scesi con la macchina. Io e Giuseppe Grazioso. Non mi ricordo con esattezza che sono state tre, quattro volte. Però io frequentavo, attraverso che ci andavo a prendere i soldi di questa quota che lui della droga che vendeva già a Milano, o l'ho frequentato fino nell'85, quando ho avuto il fermo insieme a lui, mi sembra che l'anno è dell'85, avvocato. Senta, signor Gagnolo, lei ha detto di avere accompagnato la madre di Battarino al caseificio di Tuccio. Mi può specificare l'anno, per favore? Io ci ho detto a lei che ho accompagnato la mamma di Battarino, io ci ho detto, essendo trovantini nelle case... No, aspetta, aspetta, mi scusi, sì, se può parlare più lentamente la seguo. Io ho detto che una volta l'ho incontrato nel caseificio di Salvatore Tuccio. Lei ha incontrato la madre di Battarino? Sì. Non l'ha accompagnata? Io l'ho accompagnata, no, non esiste che io l'ho accompagnata, avvocato. Senta, sì, e allora questa conoscenza quando la fece? Non so se è stata l'occasione che me l'ha presentata in questa conoscenza. Sì, mi scusi, ho capito. Vorrei sapere il periodo. Il periodo? Sì. Non mi sto ricordando il periodo di questa conoscenza attraverso la mamma di Battarino nelle caseificio di Salvatore. Senta, lei ha parlato dell'omicidio di un certo Romeo e mi vuole dire, e ha parlato di Tuccio con riferimento a questo omicidio, senta, mi vuole dire a cosa servì il fiorino del Tuccio? A che cosa servì il fiorino del Tuccio? Sì. Io l'ho visto arrivare con il fiorino del Tuccio. Giustamente vuol dire che si hanno dato il cambio con il fiorino del Tuccio. E se fido che sono arrivati in quella, diciamo, nella stalla dei cavalli di Picanello. Quando sono arrivato, io ci avevo detto a Claudio Sanperi, ora glielo faccio portare da Rocco di Pava, contemporaneamente arriva con disposto Edoardo e basta, Domenico, e sono stati loro a portarci il fiorino a Tuccio. Mi scusi, solo un attimo. Prego. Cioè, mi scusi, praticamente quindi questo fiorino veniva utilizzato come appoggio? Sarà, è stato utilizzato come appoggio. Come? Sarà che è stato utilizzato come appoggio? Ma perché Salvatore Tuccio ne sapeva dell'omicidio di Avvocato. Non l'ho sentito. Salvatore Tuccio ne sapeva dell'omicidio. Lei ha fatto delle dichiarazioni in questo senso, dico, quindi mi interessa, dico, che lei specifichi un attimo questo particolare. Dico, è stato utilizzato come appoggio questo fiorino? Sanfocato, io non c'ero, io l'ho vista arrivare. Sì, perfetto. Allora, mi scusi. Però non ci posso dire. No, mi scusi un attimo. Io allora, a questo punto, visto che dico, lei ha incertezze sul punto, io le contesto una dichiarazione da lei resa il 26 maggio 1995 al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catania con il quale dice Dopo aver ucciso Maurizio Romeo, Claudio e gli altri autori materiali dell'omicidio mi vennero a trovare nella stalla di Picanello in quanto dovevano fare a vera al Tuccio il fiorino di colore bianco dello stesso, utilizzato come mezzo di appoggio. È così? Sì. Bene. Senta, lei come sa che il Romeo apparteneva al gruppo Ferrera? Perché durante la guerra fredda che c'era se ne parlava di ammazzare a questo Romeo. Perché questo Romeo anche alcune volte ha passato davanti al casificio di Salvatore Ducci. Gli posso dire che lui aveva un'abietazione verso Acitrezza, però dove era? Non lo so, Salvatore Ducci ci aveva scoperto anche la casa a questo Romeo. Senta, lei seppe del blitz che venne fatto a Catania dall'autorità giudiziaria di Torino? I blitz che venne fatto? A Catania dai giudici dall'autorità giudiziaria di Torino? Sì. Lei ha saputo qualcosa, dico, di questa operazione? La ricorda, ecco? Certo, certo, certo. Mi sono andato anche a nascondere, mi ha affogato. Senta, e ha saputo dopo se le accuse mosse dall'autorità giudiziaria erano basate su dichiarazione di collaboranti? Sì, anche a me mi hanno chiamato attraverso due rapine fatte a Messina da Antonino Issaia, Issaia, Baddeca. Senta, sa se Tuccio venne arrestato nell'ambito di questo processo di Torino? Non mi sto ricordando questo. Senta, Tuccio ha preso parte all'omicidio Fava? Senta, Tuccio nell'omicidio Fava gli posso dire che quella sera quando l'ho visto io a Ognina c'era Salvatore Tuccio e Franco Giamma... Mi scusi se l'interrompo, lei dice la sera dell'omicidio? Quella sera significa la sera dell'omicidio? Sì, 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 grazie. Una precisazione, sì. Continui. Quando si sono spostati da Ognina e quando io l'ho trovato a Motel e Agipe di Ognina c'era anche Salvatore Tuccio. Allora in quel periodo il capodicino era Salvatore Tuccio. Sì. Senta, e che ruolo poi avrebbe avuto il Tuccio? Guarda, io l'ho visto spostare, avvocato. L'ha visto spostare con gli autori dell'omicidio? Sì, sì, l'ho visto spostare a tutti quanti con le macchine. Però se Salvatore Tuccio che tipo di ruolo aveva e che tipo di ruolo non aveva, questo non lo so. Come, come, mi scusi, non ho sentito l'ultima considerazione. Che tipo di ruolo aveva in questo omicidio? Ah, che tipo di ruolo aveva, non lo sa. Non lo so questo qua. Ho capito. Sa che armi sono state utilizzate in questo omicidio? Guarda, io gli posso dire che l'ho visto personalmente io, ho visto un calibro 9 e un 765, che ci ho visto le pestole io, di una pezza bianca. Personalmente l'ho visto io, l'hanno messo sui fritti. Chi le ha prese queste armi? Eh, le hanno andato a prendere, Maurizio Aula. Sì, e Salvatore Tuccio era presente? Eramo tutte presenti là. Sare che stiamo parlando sempre del problema dell'attendibilità in relazione ad altre dichiarazioni che risultano? Interloquisce con me, Presidente? Eh, ho fatto una mia considerazione. Dico che questo specifico argomento non riguarda l'oggetto del processo, non riguarda l'imputato Tuccio, perché mi pare che Tuccio non ha contestazione di questo omicidio. Sbaglio. L'ha avuta, Presidente, questa contestazione? Prego. Ha avuto questa contestazione? Ma, dico, nel processo parallelo nostro c'è l'imputazione? L'Avvocato ha avuto contestazione? Contestazione in senso a tecnico? Non lo so, ma credo di sì. Ma in senso a tecnico non lo so, ma credo di sì. Atteniamoci alla materia processuale, voglio dire, Avvocato. Quindi presumo che si faccia tutto questo esame in relazione a certe dichiarazioni differenti di altri, no? E mi pare che ce n'è a sufficienza. No, anche Presidente, per sondare la credibilità attuale del dichiarante, Presidente, attuale, scusami, attuale del dichiarante, non di altri, Presidente, attuale del dichiarante. E' quello che vuole lei, non per giudicare dell'attendibilità di altri, la sua di Gran Cagnolo, chiaramente. Benissimo, benissimo. Dico, mi pare che ce n'è a sufficienza. Sul punto ne ho altre due domande, ma sono rapidissime, Presidente. Solamente chiedo al signor Gran Cagnolo se lei ha sostenuto un confronto con Avola-Maurizio. Sì, l'ho ottenuto. Abbiamo parlato già. Sì, Presidente. E perché, se ci dice anche perché, qual era il tema del confronto? Può rispondere. Il tema del confronto era che Maurizio Aula, cioè attraverso l'omicidio, dici quello che dico io, c'è stato qualche piccolo intoppito attraverso altre cose. Qualche piccolo? Intoppito, diciamo. Sì, no, mi scusi, intoppo? Sì. Ecco, allora questo piccolo intoppo riguarda il ruolo di Salvatore Tuccio, Gran Cagnolo? No, perché Maurizio Aula ha detto che il capo di Cine era Salvatore Tuccio, perciò il capo di Cine era consapevole di tutto. Il ruolo, dice, in questa... non il ruolo nell'associazione. C'è stato questo discorso che io dico che quella sera ho visto Salvatore Tuccio e Maurizio Aula dice che quella sera non c'era, però che il capo di Cine era Salvatore Tuccio. Ho capito. Senta, l'intoppo riguardava anche il fatto che il Lavola le contestasse che il Tuccio non poteva mai essere, se era latitante, non poteva mai frequentare un locale pubblico? Non ho metto la domanda, passiamo ad altro argomento. Bene, Presidente. Senta, Gran Cagnolo, Tuccio ha preso parte anche ad un altro omicidio, l'omicidio di un certo Ignazio Tranquillo? No, l'omicidio di Ignazio Tranquillo... Sì, ha avuto... sì, correggo la domanda. Ha avuto un ruolo nell'omicidio di Ignazio Tranquillo? No, però precedentemente, diciamo, la discesa per andare a ammazzare a questo Ignazio Tranquillo, ci sono andato io, c'è andato Piero Pulisi, c'era suo cugino Franco e anche Salvatore Tucci, che Salvatore Tucci era fuori con me nella macchina, che la macchina la portavo io. Ecco, ho capito. Quindi era fuori con lei nella macchina. Però che l'omicidio poi non l'ha fatto. Poi non si è fatto. E neanche questi personaggi che ho detto io, appoggiato. Sì. Senta, lei ha mai ricevuto da Tucci un incarico per un omicidio da fare a San Berillo di una persona che si chiama Paratore, in relazione al quale poi vi sarebbe stato un errore nella esecuzione? Io non ho ricevuto un incarico. Salvatore Tucci mi sta dicendo, dice, siccome hanno arrestato, dice, a Duccio, ci pare che uno, dice... Hanno arrestato a? A Aldo Ecolano. Sì. Lui lo chiamava Duccio, a Ditto, una cosa del genere, un senso di affetto. Sì. E allora, dice, pare che questa cosa, dice, amante, non si porta, dice, siccome stasera ci devono andare, che quando hanno arrestato sarebbe Aldo Ecolano, c'era anche Maurizio Aula, è stato più fortunato che a scappare, ci hanno trovato delle pestole quella mattina. E allora Salvatore Tucci mi sta dicendo a me, dice, senti, mi fai un favore, siccome ti ritengo un tipo più fortunato attraverso queste cose, ci facci anche tu. E ci sono andato io, Piero Puglisi, Macello D'Agata, Franco Giammusso, che era con la sua macchina, Maurizio Aula e Giovanni Fommaggini, che sono stati l'eseguitore di questa cosa. Le pistole ce le ha portate Antonio Alicciodello. Senta, con Avola, nel confronto avete parlato anche di questi due fatti omicidiari? Cioè di questo di Ignazio Tranquilla e di questo del omicidio di San Berillo? Sì. Grazie, non ho altre domande. Intervento successivo. Presidente, solo una domanda, Avvocato Antille. Signor Grancagnolo, lei in relazione all'acquisto di stupefacenti da parte del signor Madonia Giuseppe ha già deposto dinanzi al Tribunale di Caltanissette? Sì. Nel processo denominato Leopardo? Sì. Grazie. Successivo intervento, Avvocato Di Giorgio. Sì, Presidente. Signor Grancagnolo, se ho capito bene, lei si trova in stato di affidamento in prova al servizio sociale, è così? Sì. Gradirei sapere se lei, durante il periodo della sua collaborazione e quindi da quando ovviamente non è più in strutture carcerarie, si è incontrato con suo cognato, San Perito. No, 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 ma non con mio cognato. No, no, io con suo cognato, la prego. No, 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 con nessuno, Avvocato, gli posso dire una cosa, se mi consente, e se mi consente anche la morte. Io non le consentirei, Presidente, decidere. Non le consente, non gli interessa. Non mitte. Quindi passiamo da... C'è una ragione particolare per la quale non vi siete incontrati? No, ragione particolare non ce n'è, non c'è niente, gli voglio dire solo questo qua, abbiamo seguito tutti quanti una strada, quelli che siamo in Italia io non lo so, a un tratto c'è un incrocio con tante strati e ognuno si fa la sua strada. Vi voglio dire questo qua, non ho motivo di incontrarmi, non con Claudio Semperi e non con altri collaboratori di giustizia, perché non mi voglio ricordare il mio passato e la mia storia, perciò non mi interessa niente, me lo voglio ricordare solo in questi momenti quando mi trovo attraverso la autorità giudiziaria. Signor Grangagnolo, chiedo scusa, abbiamo capito, lei più volte ha detto questo. La ringrazio, Avvocato. Le chiedo scusa. No, grazie. C'era una ragione particolare per cui Semperi Claudio dovesse venire al carcere di Cune a trovarla? Eccetto, erai il fratello di mia moglie e mi facevi colloquio. Eh, mi pare che non è particolare questa ragione, no? Come? Questa è l'unica ragione. Eh sì, perché? Quando lui era detenuto io non ci facevi colloquio a lui. Ok. Senta, signor Grangagnolo, lei ha parlato di una guerra, nel corso del suo esame, ne ha parlato spesso, una guerra a Santa Paola Pulvirendi Ferrera, la definita. Sì. Eh, vuole ricordare per favore in quali anni sarebbe venuta questa guerra? In quali anni è venuta questa guerra? Agli anni più, diciamo, più caldi, con la certezza mi sembra che è stato l'anno 89. 89? 89? Sì, sì. Più caldo intendiamo l'anno quindi durante il quale ci furono fatti di sangue, si verificarono fatti di sangue. Sì, 89 e 90, può considerare affrontare. Senta un po', lei ha parlato più spesso di questo episodio e di personaggi che in questa guerra, e a questa guerra avrebbero preso parte. Nel momento in cui il signor Pubblico Ministero, nell'esame condotto ieri, le fece il nome di Tudisco Santo, lei, a proposito di questo, il signor Tudisco Santo, ebbe a dire, cosa che non aveva fatto assolutamente nel corso dell'esame in precedenza, che avrebbe avuto, sarebbe stato attivo in questa guerra Tudisco Santo. E' così? Non l'ho capito la frase, se me la può ripetere la ringrazio un po'. Pur non avendo parlato nel corso del suo esame di Tudisco Santo, quale partecipe a questa guerra della quale lei ha parlato, quando questo nome le venne fatto dal signor Pubblico Ministero, lei disse che questo Tudisco aveva avuto, era stato attivo, per usare le sue parole, in questa guerra. E' stato attivo che si vedeva nei vari che veniva a Bellagio Stumetti, si stavano a sforzo anche lui attraverso Picanello. Lei questo come lo sa? Come come lo so? Come lo sa? Che c'era io a Bellagio Stumetti. Che c'era lei? In quale anno? Quindi negli anni 89-90? Sì, sì. Lo vedeva spesso lei? Lo vedevo spesso, certo, anche a Picanello. Per esempio, se io le richiedessi, dico orientativamente, nell'anno 89 quante volte l'ha visto, lei quante volte orientativamente mi direte? No, quante volte non ce la posso dire, ci posso dire se si potrebbe vedere anche tutti i giorni, con esattezza questo non ce la posso per chiedere. No, no, con esattezza l'ho premesso, che so, 20, 30 volte, tutti i giorni dovremmo dire 365, diciamo 60 giorni? 60 volte? Ma facciamo 60 volte, come dice lei a bocca. E io, per difetto, faccio un'approssimazione per difetto. Lei ha parlato dell'omicidio di un tale basista. Sì. E così. E ha detto che per eseguirlo venne utilizzato un fiorino. Un fiorino. Sì. Ecco. Mi dice qualcosa di questo fiorino, cortesemente? Guardi, io gli posso dire una cosa. Attraverso questo fiorino, già ne aveva parlato io e Macello Taggete e altri componenti, diciamo, di queste organizzazioni malavitose o mafiose. E allora dicendo che si poteva fare anche con un fiorino rubato, con la scritta o Sipi o Enel. E dove venne rubato, signor? Non lo so dove è venuto rubato e non so chi ha scritto Enel. Chi ha scritto? Se ci avevano messo questa scritta Enel o Sipi, non lo so. Ma lei queste cose come le sa di questo omicidio? Chiedo scusa. Come le so di questo omicidio? Sì. Lei ha seguito... No, mi avevano infidato in questo omicidio, affogato. E non ha partecipato. Ma io non ho partecipato, chiede Claudio Semperi e ci risponde Aldo Ecolano e dice, lasciamo vedere, dice mio cognato. Benissimo. Dice che si fermi qui. Dice che è morto sua madre, dice però, dice, lasciamolo stare. Se lei non ha partecipato, le modalità di questo omicidio da chi le ha apprese? Da Claudio Semperi. Da Claudio Semperi. Claudio Semperi ha partecipato all'omicidio? Sì, certo. Per dimmi le modalità di Enel o dire che ha partecipato all'omicidio. Questa è una sua deduzione o è un dato di fatto che lei conosce? Ma scusi, se viene da me... No, no, la prego, signora. Io vi dico quello che lui mi ha detto. No, 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 scusi. La prego. Sì, prego. Io le ho chiesto se Claudio Semperi ha partecipato in quanto lei risulta come dato di fatto oppure lei ritiene che abbia partecipato. No, ha partecipato. Ha partecipato. E che ruolo ha avuto nell'omicidio Claudio Semperi? Non lo so perché io presente non c'era Pocanzi. Scusi. E sono d'accordo, ma lei ha detto che Pocanzi ha preso di questo omicidio da suo cognato. Sì. Non credo che suo cognato le abbia riferito di quello che gli altri avevano fatto e non le abbia riferito di quello che lui avesse fatto. No, no, è che c'entra. Perché per forza mi deve dire... Quindi le ha detto di tutti gli altri e non le ha detto di lui. Va bene. Lei che rapporti ha mai avuto con Fazio Umberto? Come? Che rapporti ha avuto lei con Fazio Umberto? Con Fazio Umberto ho avuto dei rapporti che l'ho visto... Rapporti. Rapporti, che l'ho visto tante volte insieme a Enzo Santa Paola. Dove l'ho visto con Enzo Santa Paola? Lo vedevo anche, l'ho visto a Ognina, l'ho visto a Via Leonio, l'ho visto a... Lei che rapporti ha avuto, oltre a vederlo? Una volta io cercavo delle persone a San Giorgio e ho incontrato lui. Eh, a San Giorgio? Lui abita a San Giorgio? Io l'ho incontrato a San Giorgio, però se lui... E dove abita? Ma non lo so questo, avvocato. Ma lei ieri ha detto che abita a San Giorgio e l'ho ribadito stamattina. Sì, sì. Lei lo sa dove abita o non lo sa? L'abitazione e la casa non lo so. No, no, dico... Cioè, i quartieri San Giorgio. Abita a San Giorgio e lei è accetto di questo. Sì. Sì. Quindi... Quindi non ha avuto rapporti, lei al di là, li cercava qualcuno e gliene avrebbe chiesto. È così? Non abbiamo avuto modi di chiedere. Avevamo solo, ciao, ciao, prendiamoci il caffè e non abbiamo avuto modi di chiedere. Le chiedo scusa, va bene, abbiamo compreso questo. Veniva durante che c'era, diciamo, questa guerra fredda con i feriari, veniva anche lui a Villaggio Sdumetti. E lei non ne aveva parlato nemmeno. Eh? Eh, durante questi tre giorni non aveva mai fatto nemmeno il nome di questo Fazio Umberto. Magari i fratelli Montefotti veniva. Quindi lei, man mano inseriamo... Man mano che le vengono alla mente, è giusto. Non è che mi vengono alla mente. Eh, scusi, non ne ha parlato fino ad ora, le sta venendo in mente ora. Come? Non ne ha parlato, fino ad ora le sta venendo in mente ora. Ma io ne... Perché gli altri personaggi che venivano là, io non ho fatti il nome. Eh, lei li deve fare, no? Siamo qua per apprenderli, lei non li fa... Non l'ho capito, avvocato. Se noi siamo qui per apprendere da lei le cose, lei i nomi li deve fare, mica non li deve fare. Va bene, ma giustamente, neanche posso fare il nome, non so, mi fanno una domanda e faccio il nome di 50 persone. E perché no? O di 20 persone, o di 30 persone. Ah, lei ne ha fatti dicendo nome, però... Poi, scelga lei in ogni caso. Va bene, avvocato. Lei di questo episodio dell'omicidio del basista, ne aveva mai parlato in precedenza? No, come questo, come altre cose. Non ne ha parlato, scusi. No, non ne ha parlato. Mi spiega perché non ne ha parlato. Che allora, Cico, non c'è stata l'occasione, avvocato, attraverso la mia malattia... No, scusi, le chiedo scusa. Allora, la sua malattia lo capisco, lei ha ragione, però lei ha reso delle dichiarazioni all'inizio e successivamente alla sua collaborazione, e sono numerose dichiarazioni, e mai nel corso di quelle dichiarazioni, ritengo che lei stesse fosse in condizioni di salute, quando meno normali, lei ha parlato di questo episodio. Sì. E quindi, diciamo che non c'entra con le sue ragioni di salute. È diversa la ragione. Qual è? Attraverso il mio stato di salute non c'è stata l'opportunità di parlare di queste cose. Essendo che oggi abbiamo, diciamo che c'è un grande progresso in mano, e si parlano di queste cose, uno suggerisce alcune cose che deve suggerire, avvocato. Voglio dire, il fatto che lei non ne abbia parlato quando, essendo in condizioni di salute normali, parlò di altre cose... E poi ho parlato di altre cose. A che cosa è dovuto? No, volevo sapere solo questo. Ha una dimenticanza? Che cosa? Si parlavano di organizzazione, si parlavano di gruppi, non gruppi, come mi ho dimenticato lui, stia tranquillo, ci sono altre persone che mi hanno dimenticato. No, io sono tranquillo. Attraverso queste cose. Si parlavano di qualche omicidio, dell'omicidio che io sono stato qua in foto, di queste cose qua. Senta, lei ha detto anche, su una specifica domanda del Pubblico Ministero, che il difazio, che lei peraltro non aveva nominato, così come le ha ricordato un difensore stamattina, quando indicò i presundi appartenenti ad un gruppo di San Giorgio, non aveva indicato il difazio. L'avvocato lo vedremo dalla trascrizione. Assolutamente no. No, 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 dottore Bertone, non sarò stato felice. L'avvocato Strano lesse una dichiarazione del signor Grangagnolo, laddove fra i nomi degli appartenenti al gruppo di San Giorgio, che farebbe capo a Santa Paola Vincenzo, non vi è quello di questo Fazio Umberto. Un po' controllare. Eh, va davanti. Quindi, a specifica domanda del Pubblico Ministero, lei aveva detto, su richiesta di chi fossero le persone più vicine, più vicine a Vincenzo Santa Paola, aveva fatto il nome di questo Fazio Umberto. Da che cosa le risultava che fosse una delle persone più vicine? Non ero distratto, avvocato, gentilmente, mi puoi ripetere la domanda. Su richiesta del Pubblico Ministero, che le chiedeva quali fossero le persone più vicine a Santa Paola Vincenzo, lei, facendo dei nomi, fra i nomi che fece, fece anche quello di Fazio Umberto. Sì. Ci ho inserito anche quello di Fazio Umberto. E da che cosa le risultava questa particolare vicinanza? No, no, non mi risultava niente, io sono convinto che già ne ho parlato, cioè attraverso quando ho formulato i gruppi. Lei come sa che Fazio Umberto è uomo d'onore? Come lo so? Sì. Che quando è stato fatto, mi sembra che è stato fatto insieme a lui, a Fio Fighiera, come uomini d'onore. Questo mi pare che lei abbia detto, gli aveva detto Piero Puglisi? No, 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 questo l'ho saputo anche da Fufirendi, l'ho saputo anche da Antonino Fufirendi. Quindi lei in buona sostanza sapeva di uomini d'onore, anche che fossero uomini d'onore, fossero stati fatti uomini d'onore, anche persone che lei non frequentava, questo Fazio Umberto, o che conosceva appena di vista. Cioè la prima cosa, il primo pensiero di tutti era quello di metterla al corrente. Mi mettevano al corrente, ma non è perché io andavo là e ci dicevo che sta succedendo. No, no, erano loro che la mettevano al corrente. Aggiornatemi di questa. Gli posso dire che anche non c'è... Senta, lei sa di fatti specifici, a parte quello di cui ha parlato, di episodi specifici, delittuosi, come essere questo Fazio? No, no, no. Senta, signor Grangagnolo, lei ha parlato di Romeo Francesco di Messina. Romeo Francesco? Di Messina. Sì. Sì, ha detto di averlo conosciuto nel 68-69, per ragioni di lavoro. No, che io lavoravo a Messina, avvocato. Sì, per ragioni di lavoro. Che io lavoravo, non per ragioni di lavoro che lavoravamo insieme. Sì. Per me. Per me, sì, va benissimo. Non mi sono espresso bene. Sì, grazie. Lei ha anche parlato di un'estorsione che veniva consumata ai danni di una ditta, è così? Sì, sì, una ditta, la babbera, la babbera. Una ditta babbera. Era un'estorsione che veniva condotta dove? In Messina? L'estorsione la facevano a Messina. A Messina. Se in Messina operavano, operano gruppi delinquenziali? Delinquenziali? Certo, a Messina ce n'è un gruppo delinquenziale, è tante. È tante. Questa estorsione veniva condotta da un gruppo delinquenziale? Estorsione? Certo, penso sì. Penso sì. Allora, mi vuole parlare di questa estorsione? Che cosa sarebbe accaduto? Cosa che sarebbe accaduto? Gli posso dire che questo signore, essendo, non so, fra Catania e Messina, che aveva una casa a mare, ha conosciuto una famiglia di Catania. Conoscendo una famiglia di Catania, ne parla con il genero. E allora gli parla di questa estorsione, qual ha il genero? E gli dice, io ho un amico, dice ora, ne parla, dice con un mio amico. A Catania. A Catania. Sarebbe il suo amico Claudio Santeri. Sì. Claudio Santeri, attraverso che ne ha parlato, o la riunione che avevano in Martedì... Quale riunione, scusi? Quale riunione? Degli uomini d'onore, o attraverso, che ci hanno dato di proposito, da parlare con altri e con altri. Scusi, scusi, signor Guagagnolo, è un'alternativa? Sta lei facendo delle considerazioni sue, oppure sta riferendo di fatti che le... No, io ci sto raccontando come stanno le cose. Cioè, lei partecipò a questa riunione? No, io. No. E allora... Stavo parlando di Claudio Santeri. Quindi lei lo sa da Claudio Santeri di queste riunioni? Le riunioni che facevano sono di Claudio Santeri. Le riunioni, le so, ci ho detto che sono stato coinvolto in Cette Corriere. Le chiedo scusi. Perché ci andavo io, che ci dovevo... Le chiedo scusi. Lei ha detto che il martedì si doveva fare una riunione fra uomini d'onore. Come tutti i martedì che si... Esatto. Come tutti i martedì che si facevano delle riunioni... Ne hanno parlato in quella riunione. Quindi lei non c'era? No, io non c'ero. Oh. Non c'ero io. E quindi a lei l'ha raccontato Claudio Santeri. E allora, scusami, ci racconti il contenuto del discorso. Sì. E allora, giustamente, a poi vi viene Claudio Santeri da me e mi sta dicendo questo testo. Senti, dice, dobbiamo andare? Dici, a Messina, perché c'è un discorso di un'astruzione, di un caffè, bella, 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 una cosa del genere. Però, dici, mi voleva notare che Sabato Reppalato, dici, io ci ho detto che preferisco di andarci con te. Questo gli ha detto il suo cognato. Sì. Allora, ci abbiamo dato l'appuntamento con questo personaggio. E qual era la ragione per la quale il suo cognato preferiva andarci con lei? Ah, non lo so questo qua. Lei non gliel'ha chiesto perché vuoi andarci con me? No, no, no. E che motivo aveva di chiesto? E gliel'ha detto quale organizzazione stava compiendo quell'estorsione? No, e non pare che lui lo sapeva. No, 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 lui neanche lo sapeva chi era questa organizzazione. E quindi a Messina perché ci dovevate andare? Eh, se lei mi fa parlare glielo... Sì, la faccio parlare. Allora, giustamente ci siamo partiti da Catania, io, Claudio Semperi e questo personaggio. Ci siamo recati dove c'era il discorso di questo signore della torrefazione Loremi, sembra che è sulla zona di Mare Grosso della contrada di Messina. E allora abbiamo chiarito queste cose. Claudio Semperi già parte preparato nel discorso di chi ci deve chiedere, dice due milioni, dice me... No, le chiedo scusa, signor Grangagnolo. Quindi, se l'estorsione, lei mi pare ha detto, era stata iniziata da un gruppo di Messina, presumibilmente, anche se non ha saputo dire quale, e l'incontro con chi è stato? Direttamente con l'estorto? No, l'incontro è stato fatto direttamente con il proprietario del caffè. Ed era l'estorto. Noi non abbiamo visto nessuno tipo o personaggio malavidoso di Messina, tranne Romeo, che l'abbiamo chiamato. Le chiedo scusa, io vorrei capire per capire. Lei ha detto, c'era un'estorsione, lei ha detto che un gruppo di Messina faceva un'estorsione a questo Barbera? Questo qua ha ricevuto dell'estorsione e delle minacce. Ha ricevuto queste istorsioni e delle minacce. C'è stato questo, scusi, riassumiamo. C'è stato questo Barbera che, avendo un amico che aveva una casa vicino a quella di suo cognato, giusto? Dell'amico di mio cognato. Dell'amico. Si è rivolto a lui per sistemarla. Quindi l'estorsione partiva da Messina. L'estorsione ce la facevano i Messina, non era un'estorsione fatta dai catanesi. Perfetto. E allora, scusi, voglio capire, com'è che si parte da Catania e si va direttamente dall'estorto e gli si dice dammi due milioni e mezzo, se prima non si è indavolato un discorso con chi l'estorsione aveva cominciato? Allora, sospendiamo, avvocato Di Giorgio. Mi pare che c'è un po' di incomprensione in questo momento. Che dice? Ah, io crederei... No, dico, se devo andare ancora avanti per molto... No, io devo andare avanti per... Sì, ma su questo punto crederei, se fosse possibile, per la morte, almeno su questo concorso. No, sì, sì, quando si tiene lei... Su queste... Oh, queste... Solo che notavo che c'era qualche desaglia. Allora, bene. Si cominciamo. Allora, continui, signor Grangagnolo, dal momento in cui va a Messina. Allora, giustamente, essendo il discorso che questo signore aveva una casa fra Messina, Catania e Mare... No, no, scusi, no, no, quando eravate andate a Messina voi per incontrare questo Barbera? Questo Barbera l'abbiamo incontrato attraverso questo signore di Catania che ce ne aveva parlato a Claudio Samperi. Questo signore è venuto in macchina con noi e si è andato direttamente all'autorefazione perché già conosceva il proprietario, diciamo, di questa autorefazione. Sì. Conoscendo questo proprietario della torrefazione, già Claudio Samperi aveva partito premeditato quando ci doveva richiedere a mese. Sì. E allora ci fai il discorso, dici, lei ci deve dare, dice, due milioni e mezzo a mese. Lei non si deve preoccupare che no, non siamo noi che veniamo da Catania, ma bensì ora ci presentiamo, dice, un personaggio di Messina a testo e ci ha fatto in nome, dice, Francesco Romeo che è il cognato, dici, di Santa Paola. Ho capito. Oh, siamo andati a prendere Francesco Romevo, dove lui aveva il deposito che vendeva la canne. Sì. Una travesta di viale la farina di Messina. Sì. Siamo andati a prendere, siamo arrivati nuovamente all'autorefazione. Ho capito. Quindi non avevate un appuntamento con il Romeo. Eh? Non avevate un appuntamento. No, siamo andati a prenderlo. A prenderlo, sì. E allora, giustamente, come siamo arrivati all'autorefazione, ce l'abbiamo presentato a questo signore, presentandolo a questo signore, giustamente ci abbiamo detto che tutti i mesi che veniva il Romeo a prendersi i soldi. Questi soldi, questi due milioni e mezzo, ci dovevano dare i fratelli di Santa Paola, sarebbe Piero Santa Paola, Enzo Santa Paola, i figli della buonamma di Natale Santa Paola, che stanno a Messina. Sì. Che poi mi sembra che erano anche detenuti. Sì. Questa è l'estruzione, il discorso delle mediche razioni del caffè. E con il gruppo messinese che cosa faceste? Chi prese contatti? E chi ha avuto mai contatti con questo gruppo messinese che ci faceva? Chi sa che ci faceva questa istruzione del gruppo messinese? Scusi, l'estruzione era in atto? Era un gruppo messinese che la conduceva? Mi scusa, avvocato, è questo il discorso. Il signore, il proprietario dell'autorifazione, si è lamentato attraverso questo signore di Catania, che aveva ricevuto delle minacce attraverso l'estruzione, che ci paghiavano dell'estruzione delle cose. Noi non abbiamo parlato con nessuno di Messina. Perché se a questo momento vi aveva parlato... Andate là e vi siete fatti dare i soldi e basta. Ma è stato lui stesso a insistere... Guardi, avvocato, a questo punto devo dire che per la Corte il discorso è di una chiarità luminosa. Quindi, dico, insistere per fare aggiungere che cosa... Posso sapere... No, Presidente, sì, lei ha ragione. Io invidio la Corte che abbia questa capacità di... Se vogliamo sospendere, lo riprendo dopo il... No, no, va bene così, va bene così, Presidente. Posso continuare? Non su questo punto. Certo, certo. Non su questo punto. Cioè, ritiene di finire il controllo? Sì, 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 Presidente, grazie. Lei ha parlato di un omicidio commesso a Messina, da parte di un tale, credo, Priviteva. È così? Un certo Mario, ma non mi ricordo con esattezza, ce lo ribadisco se si chiamava Mario Priviteva. No, l'ha detto a mio padre, l'ho annotato. Chi era la vittima? Lo sa? La vittima no. Non sa nemmeno quindi perché venne uccise questo tale? So che è stato ucciso per discorso che hanno avuto delle indigene fra questo Mario e diciamo questo messinese mi sembra un caccio di Messina o un altro caccio. Però non so i motivi specifichi perché è stato ammazzato. Non li sa. No. Lei mi pare che ha detto qualcosa in ordine a questo omicidio. Nel senso che qualcosa che riguardava Romeo, è così? Ho detto questo qua e ho detto anche che era consapevole anche della rapina che abbiamo fatto con i divisi finanziari. Un momento. Ecco, mi parli di questa rapina. Ci parlo di questa rapina? Sì. Allora noi dovevamo fare una rapina a Messina. Sì. Ci doveva andare con la divisa dei finanziari. Sì. Dove la dovevate fare la rapina? È una grosso, diciamo, una grosso gioielleria che vendeva l'ingrosso però, ai gioiellieri. Sì. Allora si fa questa rapina, però che precedentemente ci sono stati anche altri episodi, attraverso quando abbiamo lasciato le divise, le amme e tutto all'avvocato. Io a lei chiedo, se vuole raccontare un po' più forte cerco di sentirla. Se vuole raccontare il discorso della rapina, ci racconta il discorso della rapina. Se noi vogliamo partire a principio del discorso, partiamo anche a principio del discorso. No, no, stavo parlando della rapina, signor Grangagnolo. Ma la rapina è stata fatta poi dopo dell'omicidio. Eh. Quindi voi avevate queste divise e che avevate fatto? Le avevate depositate in un posto? L'abbiamo lasciato in un posto dove ce l'abbiamo lasciato a Romeo, queste divise e le pistole. E quanto tempo dopo è stata commessa questa rapina rispetto al momento in cui lasciaste le divise? No, ci siamo andati tante volte ma non si è potuto fare. Con eserpezza non mi posso ricordare il periodo come è stata fatta. Gli posso dire che questa rapina l'ha fatto. E che cosa... Le divise se l'hanno messo a Fiolice e a Dino. No, 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 sugli autori no. Da prego, gli autori non mi interessa. Ah, va bene. Quindi avevate delle divise e poi che cos'altro avete lasciato? E poi? Che cos'altro avete lasciato? Ci abbiamo lasciato delle pistole, un 7,65 con la modifica del silenziatore. E perché avete lasciato quest'arme là e la divise? No, perché non potevamo fare catani e mestine che noi ci portavamo le divise e le armi nelle macchine. Ma perché? Per fare la rapina? Quindi voi ci andavate di volta in volta fino a quando si sarebbe presentato a che cosa? Noi ci andavamo, lasciamo le cose là, abbiamo lasciato le cose là. Quando è stata l'occasione di poter fare la rapina, perché abbiamo perso più di tante volte, gli posso dire questo qua, che un giorno Puffiurenti stesso, dice, abbiamo capito, ci vengo pure io. E si è verificato che si è fatto la rapina che c'era Puffiurenti. Allora, questa rapina... A poi noi, per discorso che giustamente si mettevano in funzione i dottori dell'Ordini, che cosa abbiamo fatto? Ci abbiamo fatto prendere un cavallo a fratello di Romeo, e ci siamo andati dietro a questo cavallo per fare capire che oggi e domani ci dovevamo comprare questo cavallo. Questo cavallo, ho capito. Senta, e allora, l'omicidio di quel tale di cui non ricordo il nome, ha qualche attinenza con questo episodio del deposito delle armi, eccetera? C'entra perché il discorso, quando noi pensiamo che siamo ritornati a fare il discorso della rapina e dovevamo prendere delle pistole, non abbiamo trovato più la pistola. Non trovando più la pistola, giustamente si è detto a Puffiurenti, ma com'è andata a finire questa pistola? Dice, ce l'hanno dato, dice, a quel discorso, dice, che noi abbiamo chiarito che c'era nel mezzo anche il genosparico dell'omicidio, dice che questo Marieggio aveva delle discussioni attraverso, con questo di Messina, dice, ci ha andato anche a Zercolano e lui. Quindi quell'arma sarebbe stata utilizzata per un omicidio? Sì. E lei non ne sapeva niente, giusto? No. Giusto. E lei ha parlato di Ercolano e di questo Mario, ma questi erano partiti da Catani, presumo, sì? Sì, sì, sono partiti da Catani. Presidente, soltanto, scusi, avvocato, dico, soltanto per organizzarci, se bisogna fare una pausa adesso, se dobbiamo... L'ultima domanda. L'ultima domanda. Sì, non era soltanto per sapere. Sì, l'avevo detto. L'ultima domanda. Questo è un altro degli episodi di cui lei non aveva parlato mai in precedenza. Sì. E il ricordo è attuale, l'è venuto come? Che cosa è successo? A me? Sì, cioè, come l'ha ricordato questo fatto? Non mi è successo niente, non mi è successo niente. Perché non ne aveva parlato in precedenza? Non c'è stata forse l'occasione di parlare, perché... Non c'è stata occasione? Non l'era stato mai chiesto di Romeo Francesco nel corso delle indagini? A me? Eh. Ma io ho parlato allora che ho fatto delle dichiarazioni attraverso Romeo Francesco. Eh. Ma poi questo nome non c'è stato... E in quel momento non ha fatto menzione di questi fatti? No. Nessun'altra domanda, Presidente. Grazie. Allora, mezz'ora di sospensione, può accomodarsi di là? Mezz'ora? Sì, mezz'ora. Eh, dobbiamo andare avanti. Presidente, allora facciamo dieci minuti di sospensione. No, mezz'ora di sospensione, avvocato Rapisardo. È sufficiente che si trattenga uno o due di voi, gli altri possono andare, ritengo. Chi deve fare il contresame e poi tornare... Presidente, ancora ci siamo almeno cinque o sei avvocati. E dico, mettetevi da qui, per fare i turni. Presidente, se lei mi promette mezz'ora, io non mi muovo da qui e il resto ricomincio. Se è mezz'ora, mezz'ora che la corte, io non mi muovo da qui. No, Presidente, per carità. Scusi, avvocato Catania, sono la mia persona o siamo 15 persone? Non so, sì. Mi creda, una volta tanto non voglio essere polemico, glielo dico con sincerità. Dico, va bene. Come glielo garantisco? Se a qualcuno gli vengono mal di denti, che... Dico, allora, mi prenoto io parlare di presa. E programmaticamente dico, non andiamo fuori, ci mandiamo qua, mangiamo un panino e torniamo in aula. D'accordo, questo è il programma. L'Avvocato Catania può... Signor Presidente, mi scusi, volevo dire una cosa. Non ci voglio mancare di rispetto alla signoria vostra, con la corte, con i pubblici ministeri, con gli avvocati. Mi è stato di saluto e non mi apporta più di andare avanti per oggi. Poteva presentarmelo prima, però, gran cagnolo. Sì, ha ragione. Ora siamo tutti in aula, debbo sospendere e attendere che lei si riprenda anche un tantino fisicamente, perché sarebbe opportuno e necessario per tutti quanti che lei facesse ancora uno sforzo per consentire di finire... Non mi incivoca il mio stato di salute, signor Presidente. Presidente, se posso interlocuire le mie domande, non saranno domande complesse. Io mi aspetterei dei sì o dei no, prevalentemente. Ma mi pare che a questo punto è la situazione di tutti quanti, insomma, no? Quindi io le chiederei se può provare... Se non va di là, si riposa ancora un poco... Non è il discorso di riposarmi o non di riposarmi? Se possiamo fare magari domani, un altro giorno... No, domani è domenica e poi dobbiamo rientrare a Catania. Facciamo la prossima volta un'altra sede... Devo chiederle di fare questo sforzo, Gran Cagnolo. Vediamo un po' lei. Siamo tutti brevissimi, con pochissime domande da parte di tutti, così leggerine, con l'ampia possibilità di pensare... Se lo dice poi l'Avvocato Guzzone, quindi siamo al posto. Abbiamo questa garanzia. Avanti, Avvocato Catania. Signor Gran Cagnolo, lei ha già detto che faceva parte dell'organizzazione di Pulvirenti Giuseppe, è vero? Sì. E che all'interno di questa organizzazione lei aveva un gruppo di cui lei era il capogruppo, è vero? Sì. E che operava a Picanello. Chi erano i componenti di questo gruppo che lei faceva capo? Ero io, Giovanni Campria, Massimino Salvatori, Angelo Di Stefano, Strano Mario, Nenna... Va bene così. Va bene così. Ovviamente eravate anche dei detti ad attività delittuose. Io voglio sapere una cosa. I componenti del suo gruppo, le attività delittuose che ponevano in essere, le ponevano d'accordo con lei? Cioè lei lo sapeva tutto quello che nel gruppo veniva fatto? O prima o dopo? Dopo no, ma prima sì. Prima sì. Cioè quindi diciamo i componenti del gruppo quando devono fare un'estorsione, un traffico di stupefacenti, che mi pare che lei ha detto che trafficasse in stupefacenti, no? No, ma a discorso del traffico di stupefacenti c'era uno responsabile che la usciva, non c'era dei bisogni, che diceva sai è venuto uno che ci deve dare 50, 100... ...al clan Pulvirenti e quindi lei era il suo responsabile, diciamo poi il suo superiore per così dire, era Pulvirenti Giuseppe, dico bene? Superiore era il mio superiore? Certo. Certo, sì, sì, sì. Cioè lei nel senso che lei se prendeva ordini li prendeva da Pulvirenti Giuseppe? Certo. Perfetto. Lei ha già detto che non è uomo d'onore, io non sto qui a investigare se è stata una sua ispirazione o meno. Non è zero, è zero, è un po' male. Sì, 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 lo so, lei magari è stato un po' reticente sul perché non lo è diventato, visto che in qualche momento, ma lasciamone stare, credo che ci sia già abbastanza sul punto per valutare. Io adesso le voglio chiedere, invece, alcune altre domande. Si possono chiedere informazioni fra uomini d'onore oppure solo fra uomini di delinquenza, visto che lei si definisce uno che ha sempre fatto il delinquente? Si possono chiedere informazioni sui fatti delittuosi? Informazioni non si possono chiedere, ma se sia durante... Basta, basta, lei, anche perché è stanco e siamo stanchi tutti, mi dica sì o no. Non si possono chiedere informazioni sui fatti delittuosi. Lei, peraltro, in altre circostanze, ha detto che non è serio chiedere informazioni. Però si possono anche che uno ce le racconta a un altro. Certo, 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 questo lei l'ha già detto. A me interessava sapere la prima parte. Le chiedo scusa. Lei ha parlato di queste riunioni settimanali. Non parlo di quelle, diciamo, durante il periodo bellico della guerra, come la definisce lei. Lei a queste riunioni ha mai partecipato? Delle riunioni? In qualche occasione ero... Perché mi mandavano a chiamare, perché ero io che ci dovevo suggerire qualcosa. Mi trovavo in foto in questa situazione attraverso delle riunioni che si facevano ogni settimana tra i biomeni d'onore. Scusi, signor Grancagnolo. Lei, sentito davanti all'altra corte, ha detto, io non ho mai partecipato a queste riunioni. Leggo dal verbale del 28 gennaio 1995, quando lei è stato sentito nel processo contro Santa Paola, più tre. Io non ho mai partecipato a queste riunioni. Casualmente, qualche volta così, mi mandavano a chiamare se c'era qualcosa. Non ho partecipato mai, perché io non ero un uomo d'onore. Non ho mai partecipato a queste riunioni. Ma tutte le settimane, lei continua, questo non mi interessa. Quindi, voglio dire, lei quando viene sentito dalla corte, dall'altra, dal Tribunale, no, era la corte d'assise, l'altra corte d'assise, è perentorio nel dire che lei non ha mai partecipato a queste riunioni. Trani dell'occasione, ce l'ho ribadito anche adesso in questa sede, affocato. La stessa cosa che ci ho detto là, ce l'ho ribadito anche qua. E queste occasioni erano, dico voglio dire, erano occasioni che si verificavano frequentemente o erano fatti assolutamente eccezionali. Visto che, diciamo, lei non essendo un uomo d'onore, non aveva diritto, per quello che dice lei stesso, di partecipare a queste riunioni. Era un fatto eccezionale. C'era un fatto che capitava, poteva capitare eccezionalmente. Fatti che capitavano, io ci andavo a trovare e allora mi mandavano a chiamare. Ma, dico, a prescindere da queste occasioni, come richiama lei, lei ha mai, lo conosceva l'argomento di queste riunioni? L'argomento? Certo, si parlava di cose delinquenziali, di cose si parlava, ci sono state altre cose, avvocato, sì. Signor Grancagnolo, io le devo sempre contestare che lei invece, ancora una volta sentito in quel processo, e a pagina 178 del verbale, ha detto che non ha mai conosciuto l'argomento delle riunioni, e del resto è anche comprensibile, visto che lei non partecipava, se non in queste occasioni. Ma scusi, se si riuniscono gli uomini d'onore, perché che si stanno riunendo? Ah, lei dice, se gli uomini d'onore si riuniscono, parlano genericamente di un programma delinquenziale, questo intende dire? Certo. Ah, sì, se è così, certo, però non c'è, certamente, non c'è contraddizione. Senta, lei ha anche parlato di Capi Decina, è vero? Di? Capi Decina, parlando di cariche all'interno delle organizzazioni, anzi, le faccio la domanda, ha mai parlato di Capi Decina? Di Reina? Capi Decina, lei ha detto che all'interno di queste organizzazioni alcuni soggetti rivestivano il ruolo di Capi Decina. Sì. Sì. In quale organizzazione ci sono queste cariche? Nella sua? No, questi cariche sono nell'organizzazione di Santa Paola. Nel Malpassoto non ci sono? Nel Malpassoto c'è lui solo consigliere, poi gli altri erano tutti uomini d'onore. Nel Malpassoto erano tutti uomini d'onore? Sì, tutti uomini d'onore, quelli fatti uomini d'onore, Nino Pufferenti, Piero Pulisi, Gino Rennisi, Cilaci... C'erano alcuni dei componenti di questo gruppo. Ma, senta, queste cariche, chi le ha ricoperte? Chi le ha ricoperte? Sì, sì, che lei sappia, all'interno dell'organizzazione in cui lei dice che esistono, chi le ha ricoperte? Di chi erano ricoperte? Prima erano ricoperte da Salvatore Tucci, quando l'ho saputo io. Ah, poi, per discorso che lui si è sposato la sorella di tre carabinieri, non ci apportava agli uomini d'onore di avere questo, diciamo, questo tipo di matrimonio. L'hanno degradato, è rimasto solo uomo d'onore, e il capo di Cina l'ha fatto Calogero Campanella. Solo lui? Come sono lui? Ci potevano essere altri capo di Cina, però lui era un capo di Cina responsabile di tutto. Ah, quindi il capo di Cina era responsabile di tutto? Lui era un capo di Cina responsabile di tutto e tutte le cose ci dovevamo rivolgere a lui. Tutta l'organizzazione, cioè, si doveva rivolgere a Campanella in quanto capo di Cina? Sì. Lei ha iniziato a collaborare il 4 febbraio del 1993, dico bene? Sì, sì, appogato. E lei ha incominciato, lei si incontrò in quell'occasione con suo cognato, vero? Suo cognato è Claudio Semperi. Lui era collaboratore di giustizia e io ancora non ho appogato. Perfetto. Lei ha già parlato di quello che vi siete detti in questo incontro? Noi ci siamo incontrati per motivi di famiglia, appogato. E le risulta che poi fu Semperi che fece sapere ai magistrati che era della sua volontà di collaborare? Può essere che è stato anche Claudio Semperi a dirgli ai magistrati che io volevo collaborare. E mi faccia capire, se parlavate di motivi di famiglia, Semperi come poteva comunicare questa sua volontà? Che fa, gliel'aveva letto nel pensiero? Vabbè, può essere che me l'ha letto nel pensiero, avvocato. Ah, bene, vedo che lei silenziosamente, il suo cognato, legge nel pensiero. Questo è un dato importante. Quindi vi siete incontrati da detenuti. Lei ora è libero, mi pare di aver capito. Sì, dal 28.01.94. Suo cognato, Samperi, in che condizioni? È ristretto o è libero? Non lo so, io l'ho lasciato ieri a detenuto come me. Adesso se è libero o non è libero, questo non lo so, avvocato. Perché lei ovviamente, che pure l'ha incontrato da detenuto, da quando invece siete liberi non vi siete più visti. No, no, no. Non vi siete mai più visti. Questo è anche comprensibile. Ritornando a Pulvirenti, lei ha detto, ah, una cosa, prima di chiudere su questo argomento. Lei ha mai partecipato a qualche cerimonia in cui sono stati iniziati, cioè qualche cerimonia in cui qualche persona è stato fatto uomo d'onore? No, mai. Mai. Quindi quando lei parla che c'era qualche uomo d'onore, lei ne parla perché qualcuno gli ha detto che X, Y, Z erano stati fatti uomini d'onore? Certo, però. Lei dice che Aiello, Aiello Vincenzo, andava a trovare Pulvirenti, si riferiva a Pulvirenti Giuseppe? Che qualche volta gli è andato a trovare anche lui. E a che titolo? A che titolo lo andava a trovare Enzo Aiello? E parlavano, avevano affari delittuosi in comune? No, il contenuto del discorso, questo avvocato, non lo so se aveva un affare in comune o non aveva un affare in comune. Allora, affari delittuosi. Qualche volta, casualmente, che io andavo a trovare Pulvirenti Giuseppe e ho incontrato anche Vicenza Aiello. Ah, cioè lei andava a trovare Pulvirenti Giuseppe, mentre Pulvirenti Giuseppe ovviamente era latitante o era a casa sua? In che periodo avviene questo? Pulvirenti latitante o Pulvirenti che è un libero cittadino? Da latitante. E dov'era latitante? Pulvirenti? Sì. Pulvirenti è stato latitante? No, no, dov'era latitante quando lei, il destino ha voluto che lei, mentre andava a trovare il suo capo, li trovasse anche Enzo Aiello. Dov'era latitante Pulvirenti lei mi sta dicendo? Sì, sì, no, dov'era latitante... Nella zona di Belpasso. Nella zona di Belpasso, ma che in quel sotterraneo dove l'hanno trovato, dove l'hanno arrestato... No, anche dove è stato arrestato Piero Puglisi... No, io non lo so dove è stato arrestato Piero Puglisi e non lo voglio sapere. Io le sto dicendo il posto dove lei dice che mentre andava a trovare il malpassoto ha trovato Enzo Aiello. Le sto dicendo dove l'hanno arrestato poi il malpassoto in quel posto? Guardi, dove hanno arrestato i malpassoti il discorso di questo nascondiglio? Io non lo so. Signor Grancagnolo, lei è stanco, io mi creda pure, credo che siamo stanchi tutti, io le sto dicendo. E quel posto lei mi dica, sì, avvocato, non avvocato. Non è stato arrestato Puglisi e quando mi hanno arrestato a me Puglisi e quando è stato arrestato, avvocato? Ah, lei me lo deve dire, io che ne so. Io non è che difendo Puglisi. E' stato arrestato il 93? E che ne so io, lei non mi deve fare domanda a me. Signor Grancagnolo, lei dice che è stanco e poi invece noi scopriamo che lei... Le prego di moderare il tono. Ma questo le chiedo, scusa Presidente, questo non è un problema di corde vocali, mi devo allontanare. Ma è un problema di foga. Io, ma sa, bisogna anche incalzare delle volte, perché se questo strumento ha un senso, può avere un senso così. Il tono sono d'accordo con lei perché non dobbiamo incalzare... No, 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 il fatto anche di incalzare, cercare di considerare le condizioni particolari in cui sono tutti, perché io mi rendo conto che è uno strumento necessario, però cerchiamo di farne uso con discrezione. Io accolgo il suggerimento, ma qui in una condizione minorata mi sembra più io che il collaborante. Comunque lasciamo perdere, da quanto a termine di stanchezza? Signor Grancagnolo, risparmi... Io non ci quanto è in forma, allora. Eh? Dico che non ci quanto è in forma. Sì, sto Presidente. La ringrazio. Dell'ironia. Signor Grancagnolo, risparmi le energie. Lei mi deve dire, era quello il posto in cui l'ha incontrato o no? Lei mi deve dire sì o no? Non si preoccupi a dire sì o no. Mi scusa, Avvocato, io ci voglio dire questo qua. No, signor Grancagnolo, lei non mi deve dire nient'altro che un sì o un no, la prego, per tutto. Ma come faccio a valutare dove è stato arrestato Pufferente? No, non lo sa anche. E dice no, Avvocato, non lo so, non è quel posto. Avvocato, non lo so se è quel posto dove incontravo Pufferente, perché giustamente sono stato arrestato due anni prima di Pufferente, e se si hanno fatto delle verifiche, cosa ne so io, Avvocato? Giusto, ma lei dice che l'ha incontrato, non è che questa volta gli è stato detto, dice che c'era lei quando Enzo Aiello sarebbe andato a trovare il malfassoto. Qual era questo posto? Guarda, io ci posso dire, lo incontro a Pufferente, lo incontrava Contrata Acqua Rossa, lo incontrava un'altra località, lo incontrava quando era la titante nella campagna di Affiogiamma, lo incontrava la titante che ho avuto anche un fermo... Lo incontrava chi, lei? Sì, ho avuto anche un fermo nella campagna di Pufferente, prima di entrare nei paesi di Beppasso, lo incontrava a Pantiposto a Pufferente. Ora, mi faccia capire una cosa, Pufferente era la titante, allora, un'ora fa faccio una domanda, facciamo un passo indietro, nella vostra organizzazione, parlo di quella del malfassoto, chi è che poteva andare a trovare Pufferente? Tutti potevano andare a trovare Pufferente o lo potevano fare solo ad esempio i capigruppo? No, no, lo potevano trovare tutti. Tutti? Quasi tutti. Questo è stato sempre così, che tutti, cioè anche l'ultimo associato... No, senza l'ultimo associato, quasi tutti di quelli che avevano 4, 5, 6 anni, 8 anni, 10 anni che lo conocchevano... Quindi, insomma, persone che già erano inserite nell'organizzazione da certi anni, diciamo, e che davano sufficientemente fiducia. E peraltro, mi pare di capire, persone che, come dire, riscuotevano anche la fiducia del Pulvirenti, che, insomma, era una situazione di latitanza e quindi di rischio, non tutti potevano certamente andarla a trovare. No, persone che godevano, che all'interno dell'organizzazione avevano una certa fiducia. Dico bene? Sì, avvocato. Enzo Aiello faceva parte di questa organizzazione, sì o no? No, non faceva parte di questa organizzazione. Quindi lei non sa, l'ha incontrato, ma non sa, se parlavano di affari illeciti. No, questo non lo so di che cosa parlavano. Non lo so. Quasi che alcune volte... No, 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 non lo sa, non lo sa. Fermiamoci, fermiamoci a questo punto. Non sa di che cosa parlavano. Mi faccia una puntualizzazione, intanto. Lei ha parlato di un incontro al rifornimento, in cui avrebbe visto l'aiello in compagnia dei figli di Santa Paola. Lei ha detto che all'incirca era... questo sarebbe stato nel 90. Sì, nel 90, nei primi mesi del 91. Facciamo... ecco, vediamo se lei può essere ancora più preciso nel ricordo. Considerando che lei è stato arrestato nel maggio del 91, dico bene? Sì, sì, è vero. Quindi, rispetto alla data del suo arresto, quando collocherebbe indietro nel tempo questo, diciamo, incontro? Sei mesi prima, un anno prima, quando? Lei deve parlare, non so, sei mesi, cinque mesi, due mesi prima, tre mesi prima, in questi periodi... Cioè, da un mese a 18 mesi, o a 12 mesi. Se lei dice sei mesi, cinque mesi, tre mesi, due mesi, allora io dico da un mese a 12 mesi? Cioè, potrebbe essere un mese prima, ma 12 mesi prima? E così facciamo più confusione. Vedete se può essere... altrimenti mi dica sì, avvocato, non sono in grado di ricordare da un mese a 12 mesi. L'hai incontrato due mesi prima che mi arrestavo? Due mesi prima che l'ho arrestato. Lei poi questa mattina diceva che all'inizio vi siete soltanto salutati. È vero? Sì, sì. Non aveva peraltro parlato di Piero Puglisi, mi pare, perché lei aveva già detto che l'aveva incontrato. È spuntato Piero Puglisi a questo incontro? O non c'era Piero Puglisi? No, ero io e Piero Puglisi, e poi è arrivato lui con la macchina. Non è che ho detto che è arrivato Piero Puglisi, è arrivato prima, ero io e Piero Puglisi in vero rifornimento. No, io dico per lei quando aveva parlato di questo incontro precedentemente, non aveva parlato di Piero Puglisi. Ma non ha importanza, queste non facciamo considerazioni reciprocamente. Lei ha detto però che vi siete salutati e ha detto anche che non era il caso, che vi fermavate a parlare per non dare nell'occhio. Dico bene? Sì, mi dico. No, no, lei mi dica, lei mi deve dire sì, ha detto sì, ha detto sì. Avvocato, mi scusi, io stamattina ho detto che io era Piero Puglisi e fermo in questo rifornimento e dopo è arrivato Vincenzo Ello con i figli di Santa Paola. Signor Gangagnolo, lei non si deve seccare. No, avvocato, lo poterei bene. Io non la voglio, non la voglio. Non la voglio gentilmente, no, no, no. Io non la voglio tormentare, non la voglio assillare, io sono qui che sto cercando di fare con modestia il mio dovere. me lo consenta di farmi, io le sto dicendo, le ho fatto una domanda precisa a cui lei mi può dire, non è difficile, sì o no. Lei ha detto, non ci siamo fermati a parlare perché c'era il rischio che noi o loro potessero essere seguiti dalla polizia. è vero che la te... Sì, sì. Perché peraltro lei non era già incensurata, al tempo non era incensurato già, immagino, no. Come avvocato non lo so. Lei non era, dico siamo nel 90, non era incensurato, era già... Se stiamo parlando due mesi prima che mi arrestavano siamo nel 91. Certo, due mesi prima, sì, sì, lei ha detto 90, 91, ha detto... Non era incensurato. No, io incensurato non lo era. Non lo era nemmeno Piero Puglisi, immagino, incensurato ai tempi. No, 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 no. Perfetto. Senta, lei lo sa che il lavoro svolge, anzi l'ha detto che Aiello svolge, che aveva un'attività di costruzione di Aiello. Lo sa se ha un titolo di studio l'Aiello. Se c'è a lui un titolo di studio... Sì. No, non lo so. Allora, per sua informazione, dico che Aiello è geometra. E lo sa se ad esempio il Vincenzo Santa Paola, lei intanto è sicuro che fossero tutte e due i figli, che non fosse invece soltanto Vincenzo ad accompagnare l'Aiello. Non l'ho capito, se mi puoi ripetere la frase... In quell'occasione. Sì. Visto che peraltro lei non ricorda ad esempio nemmeno la macchina, mi pare di aver capito. Probabilmente non l'ha nemmeno vista la macchina. No, la macchina non me la ricordo, i miei figli di Santa Paola mi ricordano che erano dentro la macchina. Quindi lei non si ricorda la macchina, però si ricorda che ha visto tutte e due i figli dentro la macchina. Sì. Quindi non era solo Vincenzo, erano Vincenzo e Francesco. Sì, tutte e due i figli di Santa Paola, ti viene detto. Che Vincenzo Santa Paola è geometra, lei lo sa? No. Non sa nemmeno se ad esempio potevano andare, visto che lei ha parlato di un cantiere a lavorare... E geometra che è? Vincenzo Santa Paola o Vincenzo Ello? Tutte e due sono geometri. Non lo sapeva, guarda... Non lo sapeva, ha visto, ne so, ne faccio sapere qualcosa anch'io. Lei ha parlato anche di un'occasione... Anzi, torniamo un momento indietro al discorso droga con una sola domanda. Aldo Ercolano vendeva droga? Vendeva? Droga? Aldo Ercolano? Sì. Se vendeva droga, ma penso che neanche io non ho parlato che Aldo Ercolano vendeva droga. E allora mi dice, no, avvocato, non ne vendeva droga ancora. No, io neanche ne ho parlato su questo. Ma anche se non ne ha parlato, io le sto facendo una domanda adesso. Sì, 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 avvocato. E dice, avvocato, no, Aldo Ercolano non vendeva droga. No. Benissimo. Lei ha parlato, sempre a proposito dello Ercolano, di un'occasione in cui... Lei con una 126, mi pare, doveva andare a prendere Santa Paola, la titante, nelle campagne di Lentini. Di Lentini? Mi pare che così ha detto, vediamo se io ricordo bene. È l'occasione quando poi la macchina si sarebbe... che poi hanno detto Aldo Ercolano, il cugino, credo... E le campagne di Scordia, avvocato, abbiamo parlato, no, di Lentini? Scordia? E vabbè, io mi ricordavo Lentini, può essere il mio ricordo, sia erroneo. Sì. Che poi non ci è andato lei, ma ci sarebbe andato Aldo Ercolano, col cugino. Col cugino, Piero Pullisi, Manciono e Salvatore Ducci. E che avevano? Il pulmino? Eh? Avevano il pulmino? Perché c'era una macchina sola? Ah, ci andavano con più macchine. Ma lei, io mi ricordo, aveva detto che si sono andati soltanto Aldo Ercolano e il cugino. Vabbè, questo resterà. Quindi ora lei sta dicendo che ci sono andati, invece, ripetiamolo, perché può essere importante. Aldo Ercolano, il cugino chi? Enzo Santapaola. Prosegue. Manciono, Salvatore Ducci e Piero Pullisi. E Piero Pullisi. Ma non è l'occasione quando poi la macchina si è guastata? Sì, in questa occasione. Ah, è questa. E gli posso dire che la portava Enzo Santapaola? Quindi l'occasione è questa. Ora lei mi dovrebbe collocare nel tempo questo fatto, perché poi lei dice che Santa Paola dove sarebbe stata portata? Nella casa del Tuccio. Della sorella di Tuccio, con la crata lufo. E quando sarebbe avvenuto questo fatto? Questo episodio, mi ricordo, è stato nell'84 e prima dell'85. Quindi fine 84, prima dell'85. E' stato nell'anno 84 o nell'anno 85? Non mi ricordo con esattezza. Quindi 84-85. Ma il Santa Paola, quando si è fermato, quando si sarebbe fermato nella sorella del Tuccio? Si è fermato per pochi giorni. Per pochi giorni. Non ho altre domande, Presidente. Signor Grancagnolo, lei, parlando del mercato ittico, ha riferito che Fichera Alfio controllava il pesce spada. Lo ricorda? Ho detto Fichera Alfio? Le ripeto la domanda. Lei, qualche giorno fa, su domanda del Pubblico Ministero, ha riferito che Fichera Alfio controllava il pesce spada. Il pesce, sì, il mercato olimpico, il pesce spada e tutto. Perfetto. Io le chiedo, potrebbe lei spiegare alla Corte che cosa intende per controllo del mercato ittico e come avviene questo controllo? Come avviene questo controllo? Che loro si vanno a comprare, mettiamo il periodo del pesce spada, si vanno a comprare il pesce spada sulle bacche grandi che vanno a prendere il pesce spada. E allora, giustamente, vogliono tutto, diciamo, il discorso del pesce spada che va tutto a mano di loro stessi, quando loro hanno il discorso di questo pesce in mano tutto loro. Questo è il discorso del pesce spada, avvocato. Lei non sa altro? No, so che giustamente tutto il guadagno di questo pesce spada era per la famiglia, diciamo, del gruppo di Santa Paola. E questo, che il guadagno andasse alla famiglia Santa Paola, lei come lo sa? Come lo sa? Sì, come lo sa? Io posso dire anche che a Fio Fichera portava anche il pesce a Bari. Sì, mi scusi, la mia domanda è diversa. Sì, 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 mi scusi, no, no, mi scusi, aspetti, un attimo. E allora, giustamente, in questa occasione, se ne parlavano attraverso queste cose che avevano anche il discorso del pesce nella famiglia, diciamo... Gli l'ha detto qualcuno che i proventi andavano alla famiglia Santa Paola? Gli l'ha detto qualche persona? Non alla famiglia, all'organizzazione, mi scusa. All'organizzazione? All'organizzazione, mi scusi. Chi me l'ha detto? Se lo sa, se se lo ricorda, signor Gancagnolo. Chi me l'ha detto a me? Sì, sì. Io ho parlato con Piero Puglisi, me lo diceva anche Claudio Stamperi. Va bene. Senta, lei sa... Lei sa in quale anno il Fichera Alfio iniziò ad interessarsi del commercio del pesce spada? In quale anno? Sì. Lo che era già un commerciante dei pesci. Non lo sa lei quindi quando se ne occupò? No, 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 non lo so, non lo so, l'avvocato. Senta, lei conosce un tale Pidatella Giuseppe, proprietario della casa del pesce di Ognina? Conosco Pidatella Giuseppe? Che è il proprietario di una casa del pesce a Ognina. Ma io a Ognina andavo a comprare il pesce. Eh, lo ricorda lei se Pidatella è il... Non lo so se si chiama Pidatella o ce n'erano tanti lì dentro, però non so se si chiamano Pidatella o si chiamano altri cognomi. Non ce lo ricorda? No. Non lo ricorda se fu proprio il proprietario di questa casa del pesce dove lei andava che le presentò il Fichera Alfio? Mi presentò a me Fichera Alfio? Sì. A questo Pidatella? No, che fu il Pidatella su sua richiesta che le presentò il Fichera Alfio. Non me lo ricordo questo episodio, se il Pidatella mi ha presentato Fichera Alfio. Senta, lei conosce Fichera Paolo? Fichera? Paolo Fichera. Paolo Fichera? Sì. Guardi, so che era lo zio di questo Alfio Fichera. Una volta l'abbiamo andato a incontrare sulla zona di Piano Tavolo insieme a Polvirenti, non mi ricordo per quale episodio era, e poi in questo episodio si è incontrato anche con un garotso Giuseppe. Va bene, lei sa se Paolo Fichera era legato ai Cursoti? Sì. Senta, lei risulta che il Paolo Fichera venne inquisito a seguito delle dichiarazioni dei collaboranti di Torino, Parisi, Randelli, proprio con riferimento al controllo del mercato ittico? Sì, sì, mi risulta. E le risulta che poi il Fichera Paolo venne assolto? E nascosto? Venne assolto, con riferimento a queste accuse? Non lo so questo, ma è affogato perché non mi interessava questo progetto. Senta, lei ha mai avuto rapporti con Fichera Alfio? Io Fichera Alfio lo vedevo più di tante volte nel Moteagio e Piediognina. Si dico, lei ha avuto rapporti con lui? Io ho rapporti con lui? Ha senso, non ho avuto nessun tipo di rapporto con lui. Ho capito. Senta, lei ha detto nei giorni scorsi che Fichera Alfio era un uomo d'onore. Sì. Io le chiedo. Come lei sa che Fichera Alfio era un uomo d'onore? Come lo so che è affogato? Gli ribadisco, me lo diceva. Chi glielo ha detto? Mi scusi. Me lo dicevo. Signor Grancagnolo, mi scusi. Chi glielo ha detto con riferimento a Fichera Alfio? Tutti quanti quelli che mi dicevano è passato quando facevano gli uomini d'onore. Signore, la battuta ci fa ridere solo se è originale. Se poi viene ripetuta, stanca. E allora cosa stava dicendo, signor Grancagnolo? Me lo dicevano sempre quelle stesse che mi dicevano quando facevano gli uomini d'onore. Senta, in che circostanza particolare le venne fatta questa confidenza? In quale circostanza mi viene stata fatta questa confidenza? Gli posso dire che dopo un paio di giorni che le avevano fatto uomini d'onore, io ero con Enzo Sanda Paola che parlava ognuna, passa lui, si ferma, poi se lo chiama, si mettono in macchina a parlare, si è Enzo Sanda Paola con Alfio Fichera e già io sapevo che lui c'era uomini d'onore. Perfetto. Senta, le vennero riferite, ci fu una circostanza particolare, delle ragioni particolari, a parte questo episodio, sulla base delle quali le venne proprio fatta questa confidenza? Che mi venne fatta questa confidenza che lui è uomini d'onore? Perfetto, ci fu una ragione particolare, una circostanza. No, no, mi ricordo queste ragioni particolari, un po' calcio. Va bene. Senta, lei ha riferito che Fichera Alfio era un grande killer. Un grande killer. Sì. Mi vuole riferire a quali omicidi che le risulti il Fichera Alfio ha partecipato o ha commesso? Guarda, a me quello che mi risulta è il discorso di Lombardo, che è stato lui stesso a portarci Lombardo a chi lo doveva ammazzare. Perfetto, a parte questo riferimento a Lombardo, cos'altro le risulta? No, però non mi sto ricordando niente, Avvocato. Va bene. Senta, lei ha riferito che il Fichera Alfio capeggiava il gruppo del bullying. Sì. Lei sulla base di quali elementi e sulla base di quali conoscenze o circostanze di fatto afferma che il Fichera Alfio capeggiava un gruppo del bullying? Allora, Avvocato, siccome negli ultimi anni sono nate delle nuove regole delinquenziali, se mettiamo io, dovevo andare a mettere una bomba vicino a bullying. Pur sapendo che c'era Alfio Fichera con la sua crippi che copaggiava sulla zona dei bullying, il mio dovere era che diceva, senti, io stasera devo mettere questa bomba qua e cercate di non passare e non vi allontanate di questa zona. Mi scusate, è mai successo, ho capito, è mai successo che lei per fare qualcosa al bullying abbia parlato con Fichera Alfio? E' perché doveva parlare con Fichera Alfio? Ho capito. Va bene. Senta. Lei ha parlato di Aperi Santo. Di? Aperi Santo. Sì. Mi scusi un attimo perché ho dimenticato, signor Presidente, ancora qualche altra domanda su Fichera. Così completiamo questa posizione. Lei conosce un tale Fichera Santo? Fichera? Santo. Santo Fichera. Guarda, io conosco un certo Santo Fichera che faceva parte, diciamo, nel gruppo dei cussode. Sa che attività lavorativa svolgesse? Era proprietario per caso di negozi di scarpi alla Fiera di Catania? Aveva dei magazzini dei scappi o dei bancarelli dei scappi sulla Fiera di Catania. Senta, lei risulta che Fichera Alfio fosse compare di un grosso personaggio della camorra nopoletana che è stato recentemente arrestato? A me? Sì, a lei. No, no, a me non lo so questo qua. Le risulta che Fichera Alfio avesse un soprannome o un'ingiuria nel vostro ambiente? No, no, questo non lo so che tipo di ingiuria c'è. Va bene, a Perisanto lei ha riferito che è suo cognato. Senta, lei ha parlato dell'omicidio di tale Melu Biondo, se lo ricorda? Me lo ricordo, Melu Biondo, sì. Ecco. Senta, mi vuole riferire quando si è verificato questo omicidio? Quando si è verificato? In quale anno? Mi sembra che è stato nell'82 o nell'84 l'omicidio? Mi sembra che è stato nell'83 però, avvocato. Senta, apparteneva il Melu Biondo, era inserito in qualche organizzazione criminale? Sì, era molto avvicinato al gruppo dei Cussote. Lei sa perché questa persona venne uccisa? Questa persona venne uccisa attraverso perché ha avuto degli indigeni con Claudio Sampieri, ma temporariamente ne parlava male della famiglia di Santa Paola e gli posso assicurare che hanno saputo, attraverso che questo bazzicava l'ultimo prima di morire, sulla zona di Varesi. Se ne sono andati qualche volta sulla zona di Varesi, mi sembra che l'appoggio ce l'ha dato, non mi sembra, lo so a fronte sicuro che ce l'ha dato Salvatore Basetta, per ammazzarlo in quelle zone. Sì, senta, lei sa che ruolo ebbe la Peri in questo omicidio? La Peri, mi sembra, in questo omicidio portava la Vespa, quella a sparare è stato Claudio Sampieri, ma poi temporariamente hanno sparato tutte e due. Sì, senta, lei ha parlato di droga con riguardo ad Aperi Santo. E ricordo che ha detto che l'Aperi ha acquistato droga anche da lei. Sì. E l'Aperi le pagava questa droga? Lui me la pagava? Sì. E certo, io non la pagavo, perché non me la doveva pagare? Ma il guadagno poi, che ricavava dalla vendita, lo divedeva con lei? No, no, io ci vendevo, no, 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 io ci vendevo con me, io ci vendevo la droga con lui. E poi il guadagno era suo, di quelle che appartenevano a lui. Conosce di Paolaldo? Come? Conosce di Paola Aldo? Di Paola Aldo? Certo che lo conosco. Dove lo ha conosciuto? L'ho conosciuto benedanziario. In quale anno? In quale anno? Nel 92. Prego? Nel 92. Senta, lei come sa che il di Paola Aldo fosse inserito o facesse parte? Esattamente, lei ha detto, è con i cugini Zuccaro. Lei come lo sa? Lo so perché, anzitutto, erano imputati insieme, in questa occasione che l'ho conosciuto. Era messa a secondo piano nel braccio sinistro di Piazza Lanza. Lo sapevo benissimo che erano nel gruppo, che loro stesse, me lo dicevano, gli posso dire anche, avvocato, che facevano la distensione tra il gruppo di Pufferenti e il gruppo di Santa Paola. Mi scusi, Gran Cagnolo, chi le ha detto che il di Paola Aldo era con i cugini Zuccaro? Chi? Quale persona? Loro stesse, tutte e due. Quando lei parla di loro, mi dice chi? Loro sarebbe Domenico Zuccaro e Aldo di Paola. Ma c'è fu, dunque, lei lo conobbe in che circostanza diceva al carcere, esatto? Sì. Ma eravate detenuti nella stessa cella? Eh? Eravate detenuti nella stessa cella? No. Ho capito. E ci fu un motivo particolare per cui il di Paola Aldo le fece questa confidenza? C'è stato un particolare perché mi ha fatto questa confidenza? Eh? No, no, avvocato, si sapevano. Gli posso dire, smatti, che facevano... Va bene, mi ha risposto, mi ha risposto. Senta, è a conoscenza se il di Paola Aldo svolgesse attività lavorativa alla dipendenza e degli Zuccaro? So che non alla dipendenza del Zuccaro, ma so che mi sembra che avevano anche una società. Mi scusi, lei sa se di Paola Aldo, lui, lavorava alle dipendenze oppure non lo sa? So che avevano una società. Chi? Sì, con i cugini Zucco e Aldo di Paola. Che lui fosse quindi un socio? Sì, un socio nella sua società. Ho capito. Lei, signor Grancagnolo, ha più volte parlato dell'episodio del sequestro di droga a Bari. Se lo ricorda? Sì, sì. Senta, ed ha affermato che alla droga sequestrata a Bari era interessato Puglisi Domenico e Puglisi Salvatore. Cioè, diciamo che erano nel gruppo di Puglisi. E questo lei l'ha detto. Io le chiedo su questa sua affermazione. Cioè, lei ha riferito, è stato fatto un sequestro di droga a Bari e a questa droga sequestrata era interessato Puglisi Salvatore e Puglisi Domenico. Lei questa circostanza, per intanto, la ricorda? Non l'ho capito, avvocato. Se mi puoi ripetere la domanda, c'è in mezzo. Sì, gliela ripeto. Dunque, lei è stato in questi giorni sentito interrogato dal Pubblico Ministero. Sì. Il Pubblico Ministero le ha fatto domande con riferimento alla posizione di Puglisi Salvatore e Puglisi Domenico. Sì. Lei, rispondendo alle domande del Pubblico Ministero, ad un certo punto ha testualmente detto che era stata sequestrata della droga a Bari ed esattamente nell'occasione dell'arresto della droga portata dal rapisarda Marcello e che a questa droga, che era stata sequestrata, mi scusi, a questa droga erano interessati sia il Puglisi Domenico che il Puglisi Salvatore. Certo, perché facevano pratica nel gruppo di Piero Puglisi. Perfetto. E allora, perfetto. Io le chiedo, lei sulla base di quali conoscenze o circostanze specifiche è in grado di dire che con riguardo alla droga di Bari e entrambi, i due cugini, fossero interessati. Loro, attraverso questa droga di Bari, non è che erano interessati che ce la dovevano portare loro, ma erano interessati che erano consapevoli, come lo ero anch'io consapevoli, attraverso questo chilo di erogine che stavano portando a Bari. Perfetto. E allora, giustamente, gli posso dire che avevamo uscito un chilo di cocaina insieme anche con Piero Puglisi, mi dovevano dare dei 17 milioni e mezzo. Signor Grancagnola, mi scusi, si blocchi un attimo. E allora, perché io abbia potuto intendere il suo pensiero, interessati significa che se la droga veniva venduta anche loro partecipavano al guadagno? Certo, anche loro partecipavano. Perfetto, la ringrazio, la ringrazio. Prego. Signor Grancagnolo, lei come sa che Nuccio Uiacitano veniva così chiamato a Catania? Come lo so? Sì. Lo dicevano loro stessi, lo chiamavano, ora viene Nuccio Uiacitano. Senta, quando lei fa riferimento a loro... Loro generalizzata del gruppo malavitoso Puglisi e Santa Paola. Tutte 200 affiliati o 200 circa affiliati al clan Santa Paola e Pulvirenti le hanno detto questo? Sì, lo dicevano tutti quanti, Nuccio Uiacitano, Nuccio Uiacitano. Va bene. Senta, lei come sa che Nuccio Coscia era così chiamato, cioè che Nuccio Uiacitano veniva chiamato Nuccio Coscia ad Acireale? Perché me l'avevano detto i suoi compaesani, i suoi concittadini, diciamo. I suoi concittadini? Sì. E chi erano i concittadini di Nuccio Coscia? Erano detenuti in Piazza Lanza anche con me. E chi erano? C'era anche il suo cognato che era detenuto con me, c'erano diciamo la banda, quelle delle cassafotte che si portavano con i carattretti dei vari posti, ce n'erano tanti di Acireale detenuti in quel periodo. E mi scusi, e quando hanno parlato di Nuccio Coscia, lei come ha inteso che facevano riferimento a Nuccio Uiacitano? Come l'ho inteso? No, parlando giustamente che c'era anche il suo cognato e dicevano Nuccio, dice a Catania a voi a Catania lo sapete sentire il Nuccio Uiacitano, dice noi da Cireale lo sappiamo sentire il Nuccio Coscia. Ho capito. Senta, signor Grancagnolo, io le contesto un verbale di interrogatorio reso in data 12 marzo del 1993 alle ore 16 presso il Servizio Centrale Operativo di Roma, nel corso del quale lei, a domanda del pubblico ministero, risponde che il Nuccio Uiacitano, le leggo testualmente il passo, signor Presidente, sono a conoscenza del fatto che il fratello del Presidente testa... del Tribunale di Catania, sezione prima, è amico di Nuccio Cosci, inteso Nuccio Uiacitano, il fratello, eccetera, eccetera. Dunque, da questo verbale risulta che questo Nuccio inteso Uiacitano è Nuccio Cosci. Nuccio Cosci? No, Nuccio Cosci, io leggo Nuccio Cosci. Ma qual è la differenza, abbracato? La differenza è questa, che sinora il collaborante ha riferito che Nuccio Uiacitano è per lui Nuccio Coscia, e invece in un verbale di dichiarazione Nuccio Uiacitano e Nuccio Cosci. Cosci? Cosci. Quindi la differenza è tra Cosci e Coscia? Tra Cosci, Cosce e Uiacitano. Uiacitano l'ha detto che sia, quindi la differenza è tra Cosci e Coscia. E' una differenza che per lei era necessaria fare alla contestazione? Certo, perché per me è un altro cognome, se per lei non lo è, mi scusi. Cosci, signor Grantagnolo, cosa mi risponde? Ci rispondo che è Nuccio Coscia. E non è Cosci? No. Scusi, ma lei ricorda di avere riferito questo cognome? Vabbè, potrebbe essere, magari nel senso che uno non è molto come palla, perché lei capisce che ho la quinta elementare, non mi so esprimere a parlare, io ho detto Nuccio Cosci, come dice lei. Per me è Nuccio Coscia. Ho capito, senta, lei sa dove abitava? Ha capito, signor Grantagnolo? No, no. Stiamo parlando sempre di Nuccio Uiacitano. Sì, mi dica forse. E lei sa dove abitava? Dove abitava? Sì. Non ci sono stato mai all'abitazione. Me lo sa descrivere fisicamente questa persona? Che tipo? Mi sa dare una descrizione fisica di questa persona? C'è un fisico asciutto, l'altezza che ci posso dire potrebbe essere più o meno quanto me. È biondo, bruno, ha i capelli rossi? No, non è biondo neanche è bruno. Potrebbe essere sul castano scuro o sul castano chiaro. E lei come se lo ricorda? Mi scusi. Io me lo ricordo che ho avuto un sacco d'occasioni, me lo ricordo per il discorso di Maurizio Mazzone. No, mi scusi, lei fisicamente, fisicamente come lo ricorda? Io me lo ricordo un personaggio normale, avvocato. Era robusto, magro. No, no, quale magro? Quale magro? Ho capito. L'altezza lei ha detto? Potrebbe essere anche la mia altezza. Ho capito. Senta. Lei ha parlato di una confidenza tra le tante fattale da Puglisi Piero con riguardo ad un incontro che doveva lo stesso avere con il presentatore Pippo Baudo. Sì. Questa confidenza o questo incontro, lei ricorda quando doveva, quando si è verificato? Si è verificato, l'avvocato ci posso dire se è stato il fine del 90 o il prima del 91. Fine? Del 90 o il prima del 91. L'anno 90 o il prima del 91? Non mi ricordo quando si è attento, avvocato. Senta, io le contesto che lei, in sede di interrogatorio reso dinanzi al Pubblico Ministero, in data 11 dicembre 1993, alle ore 15.40, ha riferito che questa confidenza il Puglisi Piero gliel'avrebbe fatta tra la fine del 1989 e gli inizi del 1990. Sì. E che la data della confidenza è la data in cui la stessa sera questo incontro poi si sarebbe verificato. Oggi lei indica una data diversa. Vabbè, una data diversa è il discorso che sto dicendo sempre il 90 e ci ho detto i primi del 91, avvocato. Mi scusi, c'è un anno di differenza. C'è un anno di differenza? Certo, perché lei qui dice fine 89 inizi 90 e invece ora ha detto fine 90 inizi 91. Avvocato, magari ogni uno si può sbagliare. Quando si è sbagliato? Conferma la dichiarazione che ho fatto. Conferma questa dichiarazione. Questa resa dinanzi al Pubblico Ministero l'11.12.93. Un momento, per favore. Allora, il gran gagnolo si deve riposare. Sì. Lo possono riaccompagnare. Mi scusi, signor Presidente. Quest'ultima circostanza che conferma il verbale dell'11.12.93 è verbalizzato. Sì, sì. Grazie. Ne ha per molto l'avvocato e se vi scuso. Signor Presidente, credo di avere ancora come posizioni conosciuto o finito qualche altra domanda di carattere generale, che non è stata fatta dai colleghi. E poi, per gli altri interventi... Unico intervento in due. Unico intervento in due. Quindi sarebbero cinque interventi? Sì. Ed è sei interventi? Ma sono interventi lunghi oppure... Come dice l'avvocatora Pisarda? Dico il mio, sarà contenuto in dieci minuti. Presidente, c'è anche il pubblico ministero probabilmente che deve fare domande. A questo punto si tratta di decidere se rinviare. A rinviare a quando, Presidente? Ha dato da destinarsi o a teleconferenza, avvocato. Abbiamo altre persone. Il Gagnolo Carmelo non è più in condizione di continuare. E se l'avvocato Rocca, che è il suo difensore, vuole fare la dichiarazione formale, avverbale... Sì, Presidente. Il gran Cagnolo si sente poco bene e non è assolutamente in condizione di continuare a sostenere l'esame. Pertanto chiedo, formalmente, che sia rinviato a altra data. Pubblico ministero? Ne prende atto. Ma è stato accertato questo malessere oppure dobbiamo stare soltanto alle... No, dobbiamo stare... C'è lui che non si sente quindi di continuare perché dice che deve stare bene, ecco. Dico, non è stato accertato, lo dico per informazione mia. Non è stato accertato. Non è stato fatto nessun accertamento di carattere meglio. La cardiopatia del gran Cagnolo, che ha subito anche di recente un intervento... Vorrei sapere, d'altra parte, se il pubblico ministero deve riprendere il suo esame dopo esaurito il contresame del difensore. Ma penso che qualche domanda andrà fatta, Presidente. Quindi un accertamento medico in questo momento, considerati anche il limite temporale della trasferta, non approderebbe a niente di costruttivo perché non ci consentirebbe comunque di riprendere in tempo. E pertanto l'udienza viene segnata... Possiamo dichiarare a verbale, almeno gli avvocati che lo intendono fare, che dobbiamo ancora fare il contresame. Certo, avvocato. Allora, io ho avvocato lì per l'interesse dei miei assistiti. Aspetta un momento che intanto diciamo che l'udienza viene rignata, mi lasci finire, questo viene rignata, e che il contresame... È sospeso. È sospeso e proseguirà in data, in udienza che dovrà essere ancora stabilita. A data da destinare. A data da destinare. È che la trattazione del processo viene però rignata al giovedì prossimo, giorno che... Non abbiamo niente. 22. 22 febbraio a ore 9.30 e seguenti, presso la seconda aula di Catania Bicocca. Sì, Presidente, per quanto riguarda il calendario... Scusi, se la interrompo, dico. Per quanto riguarda il calendario... Mi scusi. Allora, le dichiarazioni... Scusi, deve completare. Il Presidente è completare. Bene, deve completare, mi pare, vero? Sì. L'Avvocato Carmelo Cali, quale difensore degli imputati di cui ha il verbale di udienza? Presidente, io al momento non avrei interesse al controesaminare, però non mi vorrei precludere la possibilità di farlo nel caso. E se non ha controesaminato, avervi mai aperto la via, sì? E' l'Avvocato Maria Caltabiano. Poi c'è l'Avvocato Guzzone. L'Avvocato Rapisarda si riserva di controesaminare. L'Avvocato Rapisarda. L'Avvocato Danna per Emma Ugeri Nicolò e Campanella Calogero. Bene. L'Avvocato Valenti. L'Avvocato Cannavò per i suoi assistiti e per quelli per i quali è in sostituzione. Sì. L'Avvocato D'Onista. E anch'io mi devo ancora controesaminare. Sì. Allora, Pubblico Ministero per il programma. Pubblico Ministero per il programma. Presidente, dico in questo momento non siamo in grado di formularlo. Entro martedì si prenderanno accordi con la Segreteria del Procure, e si conosceranno i nomi dei testi che saranno sentiti. Presidente, chiedo scusa. Allora, i difensori potranno prendere visione del programma della prossima attività istruttoria. Martedì mattina presso la Segreteria del Pubblico Ministero. Presidente, chiedo scusa. Siccome ella già conosce l'impedimento del Santa Paola Benedetto per la prossima settimana, noi martedì prenderemo visione dei testi che si sentiranno ed il Santa Paola eventualmente rinuncerà se si tratta di testi. Ma lei non è in sede. Ma c'è l'Avvocato Strano che mi avverte. Allora io inviterei l'Avvocato Strano a contattare il Pubblico Ministero già lunedì per concertarlo, è inutile. È già a conoscenza, infatti lunedì mi chiamerà e mi darà la risposta. Va bene. Siamo nelle stesse condizioni, signor Madoria, perché è impegnato nell'Aula Bunker di Mestre per l'audizione di alcuni collaboranti la settimana prossima, quindi eventualmente la rinuncia la faremo per venire successivamente alla conoscenza del programma. E anche lei è invitato a contattare il Pubblico Ministero lunedì. Sì, infatti non lo facciamo adesso perché non ha senso, non possiamo sapere il programma che ci riguarda. Sì, buona di prossimo. Allora signori, arrivederci a Catania. Buonasera. Buonasera.